Nuovo incontro al mercato ittico di Corigliano Rossano organizzato dal comitato giù le mani del porto sul maxi investimento della Becker Hughes nell'area portuale, la pattuglia delle adessioni cresce tra ambientalisti e rappresentanze politico-istituzionali, presenti alcuni sindaci, consiglieri regionali ed una nutrita rappresentanza di pescatori. Sul tema si registra anche la presa di posizione del consigliere delegato di Amendolare Antonello Ciminelli nel corso di un'intervista rilasciata alla CNews24 che ha preso le distanze dal progetto ed invita il presidente Roberto Chiuto a valutare con prudenza l'investimento che è in netto contrasto con la vocazione del territorio. All'appello va rivolto a tutti, ai calabresi a 360 gradi, va rivolto alla politica, alla società civile, alle associazioni, perché no anche allo Stato centrale, perché non è assolutamente possibile immaginare che anche se minimamente ci fosse la volontà di porla su qualsiasi altro piano, che non su quello squisitamente ambientale della sostenibilità, sarebbe assolutamente sbagliato. E' uno di quelli che si sottrae quando si parla di mobilitazione, è disposto anche ad eventuali mobilitazioni? Ma assolutamente, credo che su questo noi saremo in prima fila, io almeno personalmente lo sarò sempre. La Calabria ha bisogno di cittadini consapevoli. Nel corso dell'ultimo incontro si è messo in evidenza come l'investimento industriale sia in contrasto con il piano strutturale associato, inoltre si sta pensando ad un'arcolta di firme. Matteo Lauria per Raci News 24